Sale a otto il numero dei decessi da coronavirus alla casa di riposo della Domus Aurea. Sale a otto il numero dei decessi da coronavirus alla casa di riposo della Domus Aurea. L'ultimo in ordine di tempo è un anziano di Badolato, ospite della struttura sociosanitaria. Bilancio piuttosto pesante perché segue quelle della donna 91enne di Cardinale, poi la donna di Soverato, l'uomo di Chiaravalle Centrale, un altro ancora di Guardavalle ed infine tre anziani originari di Valle Fiorita. Il decesso alle prime luci dell'alba, mentre erano in corso le operazioni di sgombero della struttura con i pazienti che stavano per essere trasportati al Policlinico Mater Domini di Germaneto, dove la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ha disposto il ricovero di 45 anziani rimasti ancora nella struttura tutti i risultati positivi al Covid-19. Si è partiti con i primi 24 posti già occupati e si completerà il tutto nel giro di 24 ore. Questo è quanto contenuto nel piano d'azione dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, al lavoro con il commissario straordinario Luisa Latella, ex prefetto della città capoluogo. Da quanto si è appreso alle operazioni di trasferimento, stanno assistendo i carabinieri della locale stazione. Una volta completato il lavoro, la struttura di via Filangeri verrà chiusa su disposizione dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e della Regione Calabria, che hanno già disposto il provvedimento di sospensione di qualsiasi genere di attività all'interno della casa di riposo. La Procura della Repubblica di Catanzaro sta attenzionando la struttura, aprendo un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità e per capire se la casa di riposo era in possesso o meno dei requisiti previsti dalla legge per mantenere i degenti. E ora sentiamo il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, sui trasferimenti in corso. Buongiorno, alle 14 i pazienti ancora da trasferire sono 19. Il titolare dell'azienda, della Domus Aurea, questa mattina, ha inviato un'ulteriore richiesta di personale, poiché quelli in servizio erano solamente tre persone, un infermiere e due sanitari operatori, di cui questi operatori, solo uno mandato dall'azienda sanitaria. Il responsabile del 118 ha disposto la chiusura momentanea della PIP di Chiaravalle e trasferito il personale presso la Domus Aurea. Non so, non sono fiducioso, non sono speranzoso che il personale in realtà è andato a coprire i turni. Non mi esprimo a tal proposito, dico solo che è urgente trasferire i 19 pazienti che ancora sono in istruttura. Al momento so che sono partite due ambulanze da Cadanzaro, perché è stato disposto il trasferimento di ulteriori due pazienti. Per quanto riguarda un'altra comunicazione che devo dare, è quella riguardante la distribuzione diretta di farmaci o dispositivi sanitari, quelli che avvengono direttamente attraverso la farmacia distrettuale. Questi oggi non è più necessario andarli a ritirare, basta telefonare alla Croce Rossa e fare la richiesta e poi avere a domicilio quanto richiesto. La Croce Rossa, il suo numero è 800 06 55 10, ripeto, 800 06 55 10. O telefonare direttamente alla farmacia distrettuale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il numero è 09 67 53 92 90, ripeto, 09 67 53 92 90. Ultima ora, aggiornamenti alla Domus Aurea, sentiamo in merito il sindaco Domenico Donato. Non possiamo permettere una carneficina, alle 20 l'avvocato De Santis non ha più personale infermieristico. Come forma di protesta, i sindaci si stanno recando presso la struttura Domus Aurea per dare un segnale forte di intervento immediato. E ancora aggiornamenti dalla Domus Aurea, Chiaravalle, tutti i sindaci in protesta. Sentiamo il sindaco Domenico Donato. Ci troviamo presso la Domus Aurea, il dato preoccupante delle 15 e successivamente le notizie che arrivavano che ancora 16 pazienti erano presso la struttura Domus Aurea, ci ha allarmati e tutti i sindaci abbiamo deciso di venire qui sopra ad assistere al trasferimento di tutti i pazienti. Il fatto che dall'evento non c'è più personale sanitario non è concepibile. Pertanto il messaggio forte, questa volta nostro, mediatico, a tutta la stampa è per dire che i sindaci qui sopra aspetteranno fino all'ultima ambulanza. Non è più ormai tempo di attendere, non è più ormai tempo di messaggi da parte della regione, è il momento di agire. Tutti i sindaci dal comprensorio, da Montepaone a Soverato, da Davoli a Gagliato, Argusto, Chiaravalle, Cardinale, Torre, San Vito, Cenadi, Centreche, Olivadi, Valle Fiorita, siamo tutti qui ad aspettare l'ultima ambulanza.